ciao a tutti ben ritrovati per questo nuovo video unboxing su dr lumis channel nella puntata di oggi vorrei mostrarvi il mio ultimo arrivo si tratta di un recupero quindi non è un'edizione appena uscita in commercio e non si tratta nemmeno di un prodotto sigillato perché l'ho acquistato di seconda mano ad un buon prezzo l'ho pagato circa 18 euro più o meno si tratta del film children of men questa è una vecchia pellicola che ormai credo abbia una quindicina d'anni se non sbaglio di alfonso cuaron con protagonista clive owen edizione questa import tedesca nel formato media book ma udite udite c'è anche la traccia italiana perché questa comunque è un'edizione della universal e come è successo anche con altri film con altre edizioni media book tedesca e c'è anche la traccia italiana soltanto però sul disco 1080p all'interno è presente anche il disco dvd senza traccia italiana da poco lo vedremo comunque anche da un'altra angolazione vedremo il booklet eccetera in Italia sinceramente non lo so se è uscito in blu ray forse sì comunque io acquistai all'epoca quando uscì il film l'edizione a doppio disco dvd italiano dove ci sono tanti contenuti speciali però vi avviso che sono presenti gli stessi extra anche in questa edizione tedesca universal nel formato media book vi lascio il link in descrizione di questo video quindi se siete interessati basta cliccarci sopra verrete indirizzati sulla pagina amazon acquistate e in questo modo dovrete anche un piccolo contributo al canale senza che a voi costi assolutamente nulla stessa cosa vale anche per tutti i prodotti che vi mostro anche sulla chat telegram dr lumines channel quindi se volete potete unirvi alla chat trovate le migliori promozioni in corso niente cambiamo angolazione così vediamo nel dettaglio tutto ciò che contiene questo media book del film children of men vediamo quindi più da vicino questa edizione media book di children of men con protagonista clive owen julian moore e michael kane togliamo il flyer che vediamo tra pochissimo sta bello appiccicato qua mi sa che ci hanno messo anche un po di scotch e non si fa non si fa va bene infatti questo poi dobbiamo pulirlo per bene allora vediamolo più da vicino il media book credo che ci sia più di un artwork disponibile questo deve essere specificato vediamolo da tutte le angolazioni il titolo è al contrario e questo invece l'artwork posteriore diamo un'occhiata all'interno quindi abbiamo il disco blu ray con questa serigrafia andiamo sfogliare il booklet tutto ovviamente scritto in lingua tedesca ambientato nel 2027 ottima la carta utilizzata per questo booklet alfonso guaronna regista del film e poi qui abbiamo il cast grande michael kane e niente quindi questo è il booklet e poi qui abbiamo il film anche nel formato dvd e vi ricordo che la traccia italiana non è presente sul disco dvd poi prendiamo velocemente anche il flyer e qui troviamo tutti i contenuti speciali nelle specifiche tecniche audio video quindi ci sono gli stessi identici contenuti speciali presenti anche sulla vecchia edizione dvd a due dischi uscito sempre per la universal traccia italiana quindi presente oltre a quella tedesca quella inglese e quella francese in dts surround 5.1 e questa è un'edizione quindi limitata dovrebbero essere mille copie mille uno mille uno copie la mia copia numero 500 no 652 si legge poco bene bene quindi questo video unboxing dedicato al film children of men termina qui io vi ringrazio per aver seguito questo video e noi ci vediamo molto presto per ulteriori video unboxing ciao a tutti ciao a tutti